Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Non ero sicurissimo di farlo, però in realtà qualcosa pur sempre devo farvi sapere di me, no? E questa è una parte che mi sta un po' frenando ultimamente in questi giorni perché ho ricevuto delle notizie un po' così, dove praticamente sono licenziato. Io praticamente in questi anni sono sempre stato in un network e questo network è americano, quindi non è neanche italiano, non ho la possibilità di parlare con colleghi, con qualcuno, con niente perché ho un network americano. E questo network ha cambiato nome, ha cambiato società, sta cambiando tutto e quindi alcuni content creator, probabilmente non affini a loro, non mi interessa sapere qualcosa, non avranno più un contratto. Qual è il problema? Il problema è che io dovrò quindi staccarmi dal network e richiedere la partner direttamente a Google, che di per sé è una cosa fighissima perché ragazzi chiedo direttamente la partner a Google, un po' come è sull'altro canale, sul canale Viola, sul canale Twitch appunto, che ragazzi vi lascio qua il link, seguitemi sempre. E' bello, no? Avere una partner direttamente con Google, no? Ma il fatto è che Google non ti dà risposta il giorno stesso che tu gli fai la richiesta, quindi io non posso fare la richiesta partner a Google finché non mi stacco dal mio network. Per esempio il network appunto di cui faccio parte mi lascerà da maggio è difficile, però vabbè ve lo dico. No, più che altro parlarne così, io cerco sempre di farvi ridere ragazzi, ne stavo parlando anche adesso nel gruppo Telegram degli abbonati, che è davvero difficile, davvero difficile ma perché io cerco sempre di farvi ridere, cerco sempre di essere divertente, cerco sempre di mettere questa faccia qua, sempre ironica. Però in realtà sotto anch'io i miei problemi, le mie sofferenze, salute e cacchivari. E questa è una situazione abbastanza interessante perché praticamente da quando mi staccherò da pochi minuti ragazzi, e concentratevi per tutto il video, pochi minuti importanti. Da quando mi staccherò da lì e farò richiesta, non posso farla prima, devo aspettare di staccarmi dal network prima di fare la richiesta e sarà da maggio, quindi abbiamo pochi giorni, da quel momento lì dovrò aspettare la risposta di Google. E possono metterci anche un mese, possono metterci anche più di un mese, come possono metterci anche 20 giorni, come possono metterci anche due settimane. Io non lo saprò. Sapevo questa notizia già da un po' che ci sarebbero stati dei cambiamenti, ci sarebbe stato un casino, ma non pensavo in questo modo. Dormo poco, pensieroso, perché questo è il mio unico lavoro, e non avere un mese intero... Pesa. Quindi praticamente ragazzi, se proprio dobbiamo pensarla, potrebbe essere anche una road to partner su YouTube, direttamente con YouTube. Quindi non più con un network, ma direttamente su YouTube. Dall'altra parte, quanti giorni starò senza guadagnare nulla? Quindi qualsiasi video io farò, dalla richiesta di partner a Google, fino alla loro risposta e quindi all'obiettivo partner, tutti i video che farò non avranno monetizzazione. Dallo stacco dal network, fino all'ok per la partner di Google, tutti i video che farò saranno senza entrate. Voi vedrete ovviamente lo stesso delle pubblicità, ma probabilmente, penso, ma non sono per me. E questo pesa perché è praticamente come se siete in un'azienda e vi dicono bello, vieni a lavorare lo stesso tutti i giorni, ma fallo gratis, per un mese. Capitemi anche mentalmente e fisicamente quanto sto buttato giù e quanto non ve lo faccia vedere. Perché io sono sempre il solito pirla che viene qui senza mai buttarvi addosso i miei problemi. Ragazzi, sono passati anni senza che io vi buttassi addosso 3.000 cose che mi sono successe. Ma perché sono così? Qui, però, ho bisogno del vostro supporto. Supportate come potete. Come potete, ma supportatemi. Perché ho bisogno di voi, qui su YouTube, sul canale Viola, darmi la forza di fare un mese intero dove tutto quello che vedete purtroppo è gratis. Il problema sarebbe che questo è il mio unico lavoro e quindi è quello il problema. Però, ragazzi, ho bisogno di voi. Dell'affetto sia qui che sul canale Twitch. Non mi interessa di non dire il nome Twitch, chiamarlo Viola adesso basta, perché almeno in sto video qui non rompiamoci le balle su sta roba, ma io ho anche il canale Twitch dove ci sono più di 100 abbonati e quindi sarà quello il mio ingresso di questo mese, del mese in cui non prenderò nulla. E quindi ragazzi, è pochissimo. Non so se riuscirò a fare un... Volevo fare tante cose, ragazzi. Stavo pensando, vedete, il microfono... Stavo pensando di prendere un microfono nuovo, un'asta nuova, migliorare alcuni aspetti audio. Siamo un po' nei casini, però io penso che col vostro affetto, la vostra carica, la carica che mi date sempre, supportate come potete questo mese e... ce la metterò tutta per non mollare mai, perché fare un mese intero così è clamoroso, ma ce la metterò tutta. Ve lo posso assicurare. Non mi interessa, ragazzi, come supporterete, con il semplice affetto, con i semplici commenti, con i link che trovate appunto per le donation, per gli abbonamenti su anche l'altro canale, il canale Twitch appunto, dove con Amazon Prime ci si può anche abbonare gratis, quindi potreste persino dare un supporto senza spendere nulla se avete già Amazon Prime. Non mi interessa, qualsiasi forma di supporto, ragazzi, qualsiasi, non mi interessa, davvero. Ho solo bisogno della vostra carica, del supporto e... Dai, un mese ce la posso fare e vi avviserò, ragazzi, vi avviserò come andranno le cose, vi avviserò quando arriverà la partner con Google, se arriverà, penso di sì, spero, perché il canale è sempre stato abbastanza limpido, non ho mai fatto dissing flame problematiche con la piattaforma di copyright, sempre tolto tutto, sempre sistemato tutto, quindi in teoria non ci dovrebbero essere problemi, però appunto vi farò sapere quando la otterrò, che cosa succederà. Continuiamo così, stiamo andando ai 80.000, io non voglio assolutamente fermarmi, non voglio mollare, mai. Non parliamo solo di questo mese, ma mai in generale. voglio continuare a fare questo lavoro perché vedo che vi diverte tanto, diverte anche me e mi piace appunto stare con voi. Spero di apparire un po' così, un po' forzatino, perché sapete che non mi piace parlare troppo di cose negative, però spero di apparire così soltanto in questo video e che ragazzi appunto già nei prossimi video mi vedrete già con un carattere diverso ragazzi. Un bel sorrisone, la solita forza per fare i nostri video insieme ragazzi. Non mi interessa, Miracle Nation sempre, sempre attiva e quindi ragazzi io vi saluto il supporto importante da parte vostra, il vostro aiuto, quello che potete ragazzi. Non mi interessa. carica, caricatemi in questo periodo, datemi la forza in questo periodo, io metterò magari anche degli obiettivi su Twitch, parleremo di questa cosa e quando arriverà vi informerò quando avrò finalmente la partner su Google, su YouTube, quindi la partner direttamente con YouTube. Che dire? Io non vi dico più nulla ragazzi, avevo bisogno soltanto di parlarvene e di trarre qualche carica da voi. Spero di dai ragazzi caricatemi dai porca merda io non mi arrendo. Al prossimo video ragazzi grazie per aver ascoltato il video fino a qui. Bella.